Luigi III di Francia morì all'età di 18 anni a Saint-Denis. Luigi divideva il regno di Francia con il fratello Carlo Magno. Come morì, mentre montava a cavallo per inseguire una ragazza che correva per rifugiarsi nella casa del padre, sbatté la testa sull'architrave di una porta bassa, tante attuandosi il cranio.